Niente, continuiamo con la nostra carrellata sulla storia dell'horror from footage e anzi adesso cominceremo a dire qualche titolo un pochino più, anzi in realtà in particolare uno perché una volta arrivati alla fine degli anni 90 si dovrà sempre passare per forza da quello però eravamo rimasti con Ghostwatch, no? Sì, sì, sì E vabbè, avevamo cominciato a dire che si cominciava, anche se per una pura necessità narrativa in realtà c'era un'idea narrativa ancora prima che è concettuale e si cominciava a riflettere un po' sull'idea di un'immagine amatoriale che è sul ruolo nell'orrore in sé per sé dell'immagine amatoriale cioè la ripresa amatoriale ha un ruolo attivo, narrativo a livello orrorifico e questa cosa diciamo che succede anche in The Last Broadcast che è un titolo del 97 che come vedremo come tanti altri titoli in realtà di questo periodo cercarono tutti di fare un po' a gara a Blade Witch Project cioè Last Broadcast venne recuperato dopo Blade Witch Project prima non venne cagato granché e diciamo sfruttò l'onda retroattivamente perché in realtà è del 97, ufficialmente e niente, non c'è granché da dire perché in realtà non è un film particolarmente brillante però la mette ancora più sul teorico meglio non dire il finale qua siamo noi, cioè nel senso fan degli spoiler però questo spoiler non lo voglio fare perché il finale rilancia un pochino il ruolo della ripresa amatoriale sempre narrativamente parlando quindi ha anche molto senso ed è una riflessione antelitteram abbastanza concettuale dopodiché sempre del 98 c'è il remake di Alien Abduction che credo che Ale abbia visto sì, sì cioè il remake si chiama Alien Abduction ma l'originale è UFO Abduction esatto, esatto io mi sono confeso per quello recuperando prima il remake che io adesso non mi ricordo esattamente le modalità con cui venne fatto uscire questo remake però diciamo ancora ancora si cercava di sfruttare l'ingenuità del pubblico di allora cioè ancora qualcuno poteva credere che fosse vero magari un po' meno di quanto avrebbe potuto nell'89 però insomma il punto di questo film è che voleva fare un po' più spettacolo ok, stai scattando un po' un attimo sto scattando? sì il tuo wifi è a posto sì, non capisco se è un mio problema o... vabbè, comunque prova ad andare vai vai ok, proseguo in cosa mi fermo sì, sì e appunto la sensazione quando si guarda sul remake dopo aver visto l'originale è che semplicemente volevano fare le cose meglio volevano farle più pulite ed eleganti per farsi vedere meglio poi in realtà il film... eh no, cioè nel senso poi tu ce l'hai più freschi quindi qualche altra grossa differenza magari puoi dircela tu ma in realtà in Alien Abduction c'è tutta una serie ci sono una serie di intermezzi, di interviste almeno nella versione che ho visto io non so se... ah, sì, sì ci sono una serie di interviste ad esperti a filmmaker che fanno dei commenti sugli alieni cosa che c'era anche in UFO Abduction ma era alla fine, dopo i titoli di coda ah, ok in cui c'era anche un ufologo che diceva che lui non credeva nella storia che fosse tutta una messa in scena ma credeva un po' in quello che era successo mentre qua in Alien Abduction fanno anche un po' delle tirate del tipo la recitazione è incredibile questa gente sembra veramente impaurita quando in realtà c'è tipo la nonna della famiglia che è palesemente... cioè non ci crede neanche lei a quello che sta succedendo direttamente nel film quindi vabbè è proprio rigida impostata è abbastanza... quindi in realtà non si distacca troppo dal mockumentary sì, è un po' un mix non ci rinuncia eh, adesso che ci riflettiamo bene in effetti adesso se riguardo un attimo i titoli che avevo nominato prima però a parte se arriva e predecevù che però è un caso abbastanza a parte il cameraman e l'assassino è Ghostwatch per necessità di cose in realtà non c'era ancora stato un film letteralmente found footage cioè un filmato ritrovato UFO Abduction un po' sì nel senso... però per il fatto per il fatto è vero però per il fatto della cosa finale sulla... cioè il fatto che ci sia un montaggio letteralmente che diciamo venga mostrato con uno scopo anche diegetico cioè ti mostriamo questo filmato per farti che poi ci fai un discorso tramite l'intervista finale in realtà il pizzico di mockumentary c'è non è un found footage puro diciamo sì però è stato è stato aggiunto alla fine dei titoli di coda e da quello che ho capito all'inizio il film era stato diffuso come senza in maniera anonima dallo stesso Diana Liotto e solo dopo due o tre anni che era uscito tipo nel 93 il film è uscito nell'89 ha iniziato ha iniziato a diffondersi in giro per come come riprese e solo nel 93 o nel 92 Diana Liotto ha ha detto di che che fu lui quello che ha prodotto il film e allora effettivamente diciamo quindi inizialmente era un vero found footage poi dopo ora come è stato confezionato poi è un altro discorso perché come avevamo detto a quella in abduction il montaggio non è un vero e proprio montaggio è la successione delle riprese interrotte fatte riprendere e io non mi ricordo se è altrettanto rigoroso nel remake eh no nel remake potenzialmente lo è ma dato che tra in alcuni punti il film si ferma ci sono delle dissolvenze a nero e iniziano l'interviste quindi in realtà no c'è più impostazioni questo smorza parecchio e vabbè diciamo che ha tentato di rimodernarsi vabbè non era cosciente anche delle potenzialità in realtà ci sono alcune cose interessanti tipo in alcuni momenti ci sono dei glitch che nell'originale non c'erano o ce ne erano di meno ha usato di più su degli espedienti grafici per creare un po' la sensazione di situazione senza fuori controllo però da questo punto di vista è molto più efficace l'originale anche perché nell'originale ci sono momenti in cui loro gli attori i protagonisti si parlano uno sopra l'altro non si capisce nulla di quello che stanno dicendo come se fosse effettivamente un filmato di una festa tra parenti che non c'è non ci sono regole di recitazione mentre invece nel remake è già tutto molto più costruito si che è anche un diciamo un dilemma grosso del genere anche più avanti quanto far forse avevamo già diciamo citata questa cosa quanto far pesare l'estremo realismo di una ripresa che comporterebbe normalmente che la cinepresa a un certo punto magari sta registrando però l'operatore se se ne scorda allora noi guardiamo il pavimento qualche minuto così a caso immagini casuali o quanto vogliamo far prevalere invece lo spettacolo e in qualche modo questo binomio di Dino Alioto fa riflettere un po' su queste cose perché il secondo è molto più costruito è molto più come dire ripulito si 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 ricordo anche allora dimmi se mi sbaglio io mi ricordo che verso la fine uno dei protagonisti forse il più giovane si chiude in bagno per parlare alla cinepresa nel remake nel remake nel primo non gli sarebbe manco passato per la testa perché è assolutamente così cioè è totalmente attraversato dagli eventi mentre il secondo si vede che c'è una costruzione drammaturgica quasi una sceneggiatura ma anche ma anche nel modo in cui il protagonista riprende l'azione nel remake si vede che ha già più un occhio da loro lo giustificano nella maniera classica ovvero sono appassionato di cinema voglio fare voglio fare degli esperimenti nella fine mentre nell'originale non c'è neanche questa cosa lui ha comprato una telecamera giusto per riprendere situazioni in casa come ricordo basta infatti bisogna anche si sarebbe carino anche cercare di capire qual era il livello quant'era smaliziato di un aliotto per poter cioè per pensare che effettivamente allora lui effettivamente voleva che fosse vero quando andremo più avanti con i phone footage di 10-20 anni dopo ci sarà qualcuno che cercherà di fare esattamente la stessa cosa però lo farà in un'epoca in cui nessuno ci avrebbe creduto in ogni caso quindi diciamo le implicazioni teoriche si fanno differenti perché una volta che tu non devi far credere che il film è vero qual è l'obiettivo di farlo credere assolutamente reale e in effetti cioè nel senso se alla fine il rifiuto occhio alla fine il rifiuto è saltato dico se alla fine devi stare noioso perché devi fare un film assolutamente reale realistico in tutto e per tutto come lo è un film ad action anche in un'epoca in cui nessuno ti crederebbe però vabbè questo lo vediamo lo vediamo più in là perché nel 99 quando esce Blair Witch Project la gente ancora poteva crederci quindi c'è tutto questo primo periodo del found footage in cui c'è c'è la massa di creduloni che riuscirebbero cioè riuscivano ad abboccare a piani comunque di marketing molto furbi perché Blair Witch Project credo uscì su internet mi pare di sì uscì su internet io credo che poi venne proiettato anche in qualche festival ma dopo quando diciamo venne riconosciuto come opera diciamo opera d'arte se si chiamano anzi assolutamente sì sì infatti si conoscevano addirittura prima i siti e le varie i vari documenti che circolavano su internet che poi presero piede come creepypasta e poi il film venne proiettato nei vari festival tra l'altro è interessante come sempre a proposito di questa del modo in cui compare Blade Witch Project si comincia a presagire tutto il potenziale del fan footage come ARE cioè Alternate Reality non proprio come film in sé per sé perché comincia un pochino tutto quanta rovedianamente parlando transmedialità del genere cioè si cominciano a cambiare le piattaforme il film arriva su internet come video in un internet che io non riesco neanche a immaginarmi nel 99 perché non ero un attivo frequentatore di internet a tre anni il sito esiste ancora credo però comunque il fatto che il video nasca per interfacciarsi con un pubblico con un pubblico che naviga su internet quindi c'è una certa anche attività da parte del pubblico è una cosa che è estremamente importante per tantissime altre operazioni anche succedenti da Marble Hornets in giù per cui anche questo aspetto a prescindere stai scattando un attimo dicevo a prescindere dal film che ha tanti motivi di interesse poi proprio questa operazione che hanno fatto è in sé per sé importante comunque il film esce nel 99 e si fa credere che tre ragazzi siano scomparsi nell'esplorazione del bosco di Blair il film allora è un montaggio fatto effettivamente da qualcuno non si sa chi cioè io credo che sia un montaggio diciamo sono effettivamente le riprese che trovate con la rizzazione di loro tre forse sono semplicemente accostate successivamente alle altre non c'è un lavoro comunque di montaggio eccessivo giusto? sì e no nel senso che in alcuni punti non so non si capisce bene se seguono un senso cronologico delle riprese messe lì proprio alternate tra una camera e l'altra perché appunto qua poi si crea la complicazione del ci sono più due telecamere che stanno riprendendo simultaneamente in determinati eventi e perché scegliere di far vedere una cosa rispetto all'altra sì c'è lei che sceglie la 16 mm per il film che sta girando più la telecamera normale per girare quello che stanno facendo sì sì che poi si crea tutto anche la differenza di suoni perché la 16 mm non ha un registratore mentre in verità l'altra ce l'ha inoltre ci sono anche i suoni registrati dal microfono dell'operatore dal fonico sì sì quindi si crea anche questo certo anche una ci sono delle conseguenze nei mezzi utilizzati che oggi diciamo rischiano di appiattirsi perché oggi ormai diciamo il digitale appiattisce un pochino le tecniche cioè non ci sono non sentiresti più la differenza netta fra due modalità di registrazione e e questo vabbè dà un'estrema materialità all'atto all'atto della ripresa in sé ed è una delle cose belle di Blair Witch Project in effetti cioè ti senti là dentro ti senti con l'uomo sì 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 poi il fatto poi il fatto che ci sia una confusione cronologica ci sta a punto insomma più va avanti il film più c'è confusione nelle menti dei dei protagonisti che si perdono spazialmente cioè si perdono nella foresta non sanno più dove dove devono andare adesso ci sono io credo io non lo vedo da un po' cioè per cui ci sono credo dei meccanismi rispetto a loro hanno una mappa o no? sì hanno una mappa all'inizio che poi a un certo punto uno di loro butterà via in maniera non si sa precisamente la ragione per cui lo fa cioè lui dice che la fa perché non serviva a nulla e quindi la butto almeno però che poi in realtà è lo stesso personaggio che dopo MetaFilm inizia a impazzire se non sbaglio sì dopo MetaFilm no in realtà no è quello che è più è il fonico che la butta via che fino a un certo punto impazzisce poi dopo quando inizia ad impazzire l'altro che all'inizio sembrava più calmo lui inizia a calmarsi cioè c'è questa evoluzione dei due personaggi che che inizialmente uno è più tranquillo dell'altro e poi si invertono i ruoli soprattutto dopo che scompare Josh che è l'altro quello che è inizialmente calmo e successivamente sparisce poi lo si sente urlare durante la notte e dopo che Josh scompare il fonico non mi ricordo Mike si chiama mi pare lui inizia a essere più calmo a tranquillizzarsi e a tranquillizzare anche la stessa protagonista che non mi ricordo come si chiama invece lei adesso lei mi sfugge forse è pieno di di motori sotto traccia questo film cioè di cose che avvengono un po' nel fuoricampo dell'immagine letteralmente quando lei fa la diciamo si comincia a parlare alla videocamera terrorizzata la notte c'è tutto quel nero che la circonda che è estremamente opprimente così come lo studio sui suoni sui rumori non c'è mai un evento sovrannaturale cisco scritto all'inquadratura è sempre una sensazione è anche una delle cose più belle del film e va a braccetto con tutte quelle tensioni sotterranee anche psicologiche dei personaggi cioè la prima volta forse si cerca di dare una connotazione profonda complessa dei personaggi in un fan footage e anzi sfruttare il mezzo in sé per parlare di esseri umani di persone e infatti io mi ricordo che voi avevate parlato a proposito di queste treme sottotraccia di alcune vostre ipotesi rispetto o comunque se non vostre comunque esposte su internet condividevano allora io l'ho sempre interpretato come appunto considerando che ci fosse effettivamente un'entità sovrannaturale all'interno del film e che però appunto il punto di forza del film era nel fatto di non mostrarla mai e di renderla sempre e di giocare anche su alcuni cliché degli horror del tipo ad esempio la scena della confessione di lei è tutta un'inquadratura molto sbilanciata e un po' ti fa immaginare che da un momento all'altro qualcosa dietro di lei compaia dal nulla per fare il classico jumpscare cosa che in realtà non avviene ma non avviene in tutto il film non succede mai nulla di realmente sensibile qualcosa che possa far credere davvero che ci sia qualcosa lì io secondo me non è che ho un'interpretazione precisa di quello che succede mi piace pensare che potrebbe esistere anche un'entità nella finzione del film quindi tutto qua mentre Simone ha un'interpretazione opposta rispetto ecco prima di parlare della mia interpretazione vorrei dire che secondo me la differenza tra l'interpretazione mia e quella di Ale scaturisce anche dall'età e come ci siamo approcciati in maniera differente a quello che è internet perché se tu ci pensi non solo sono opposte ma hanno addirittura una base totalmente differente lui pensa che effettivamente ci sia un'identità mentre io sono partito già dalla prima volta in cui l'ho visto che sarebbe circa tre anni fa quindi piuttosto grandicello che effettivamente non ci sia un'entità ma sono loro due che portano lì la ragazza in quella casa per poi farla fuori per motivazioni che non ci vengono dette comunque esatto e sempre la scena che mi ha dato un input per arrivare a questa conclusione è sempre quella della mappa cioè nel senso che la portano a poco esatto è troppo precisa eh io credo cioè nel senso io penso che adesso loro sono stati intervistati dopo che sono stati ricordati e hanno ammesso che c'erano delle ricerche anche rispetto ai personaggi cioè c'era parecchio attenzione a come evolvevano i personaggi poi chiaramente ognuno interpreta come vuole però obiettivamente questi tipi di eventi che non sono solo paranormali anzi il film è bello perché ha la definizione di diciamo di evento paranormale più bella che si possa avere diciamo nell'arte della narrazione io volevo tirar fuori Todorov che diceva che la vera fantascienza è quella in cui non sai mai se quello che stai guardando è vero o meno o non lo sai fino a un certo punto comunque in Blade Witch Project non sappiamo non vediamo effettivamente l'evento solare in scena è tutta una questione di suggestione quindi avviene tutto in un invisibile che è nelle soprattutto nelle dinamiche dei personaggi e a tal proposito ha avuto da dire Alexander Lernicolas che è l'unica ad aver ad aver scritto un saggio compiuto e completo o almeno sui primi facciamo vent'anni di fan footage se lo vogliamo far nascere nel 1980 con Cannibal Holocaust però insomma fino a Paranormal Activity credo arrivi sì no arriva anche un po' oltre tipo 2010 ok quindi 2010-2011 quindi sì va anche un po' e dedica un intero capitolo proprio a Blade Witch Project per dire come in realtà la tecnica del fatto occhio che stai scattando sto scattando ora non più Marco stai fermo per favore non corri no ma aspetta perché forse sono io in questo caso un attimo no no scattava scattava eh però scattavi anche tu provo quindi un attimo devo capire ok vai dovrebbe essersi stabilizzato ok dicevo dedica un intero capitolo a a Blade Witch Project per per vederlo in una chiave di lettura che diciamo non è quella più popolare diffusa comunque che è quella dei rapporti di genere eh lei richiama la eh eh diciamo sostiene sia importante il il ruolo della macchina da presa perché diventa uno strumento di potere eh in qualche modo ai danni di Ether voi confermatemi questa cosa perché sì 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 l'avete letto sì 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 eh lei parla principalmente e fanno e fanno degli esempi concreti anche di questa cosa cioè lei fa lei fa degli esempi concreti rispetto a queste dinamiche credo citi alcune scene sì 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 o comunque eh ci sono varie scene in cui appunto eh ma sono anche delle scene che lei utilizza per giustificare i comportamenti di loro nel senso che ci sono i due ragazzi che molto spesso sono infastiditi dal fatto che Ether continui a riprendere pur pur vedendo che la situazione sta degenerando di minuto in minuto e molto spesso anche loro si avvicinano alla telecamera e lei si allontana per per cercare di di evitare che loro prendano il controllo del suo film e di quello che lei sta facendo eh poi c'è anche un momento e sono pochi momenti in realtà in cui sono loro a prendere la telecamera e a riprendere lei e quando ciò avviene eh tendenzialmente loro lo fanno per schernirla in qualche maniera quindi qua un po' si percepisce quel conflitto tra eh di genere che lei non è mai quasi pienamente rinquadratata sì sì è sempre un po' nascosta o un po' inquadrata un po' non in film ma anche anche la rivisitazione che fa il film della figura della strega cioè stiamo parlando degli anni 90 in cui abbiamo avuto le avventure di Sabrina eccetera in cui la strega è diventata un qualcosa di più soft diciamo quindi è come se riportasse in auge quel potere femminista mettiamola così della strega sì della strega in sé quindi il potere della natura sì la fa ritornare ad essere una figura minacciosa la strega è non più una figura quasi parodica come in Sabrina ora non lo so perché Sabrina non mi ricordo se l'ho visto l'ho visto troppi anni fa non mi ricordo più però mi ricordo che era abbastanza una commedia no? sì era una sitcom esatto per cui sì c'è sicuramente questa cosa quindi è letteralmente l'orrore del film diventa una metafora se vuoi della perdita del controllo da parte di Heather che sarebbe regista del film del suo stesso film e diciamo la chiave di lettura la chiave di lettura interessante è che in realtà il controllo viene soprattutto per il peso dello sguardo maschile in questo caso degli altri due e questo senso costante questo graduale graduale crescente prevaricazione che hanno loro su di lei per cui in realtà queste due cose questa interpretazione si sposa un po' con entrambe le teorie nel senso che in realtà l'interpretazione di genere potrebbe esserci anche della presenza effettiva di qualcosa di paranormale ma lo sarebbe a maggior ragione vera se fosse come dice Simone cioè che fosse tutta una sì sì ci sarebbe l'unica cosa che mi viene un po' da criticare alla visione di Simone è che nel senso tipo tutte le interviste che vengono fatte all'inizio perché ad esempio Alexandra nel libro parla non tira da un'interpretazione simile a quella di Simone ma invece che imputare la colpa ai due ragazzi della morte o in generale tutta l'organizzazione della situazione a loro due lei la considera che in realtà tutti gli abitanti del villaggio che loro vanno a intervistare in realtà fanno parte di un complotto di una setta che poi e quindi sono loro a fare tutti i rumori nel bosco a perseguitarli per poi eliminarli alla fine e in effetti questo spiegherebbe alcuni momenti del film in cui si sentono tutti questi rumori e sia Eder che gli altri i suoi due compagni si trovano nello stesso posto e quindi non si spiegherebbe chi è che produce i rumori da fuori un po' questo che a me non ha mai non mi ha fatto mai passare l'idea che fossero loro gli artefici di tutto ma che ci fosse un'entità esterna che poi questa entità esterna fosse effettivamente la strega oppure un gruppo di persone che effettivamente li stava perseguitando per divertimento e per poi eliminarli questo non è dato saperlo e si tratta di speculazione o addirittura ancora meglio può essere che pur di mantenere il mito medievale della strega presente a Blair persone che vivevano in quel villaggio facevano questa cosa con tutti i turisti anche certo che poi si è arrivati a ucciderli un po' una forza dura però è esattamente il problema di tanti horror decidere di dare una direzione netta fra le tante possibili cosa che invece Blair Witch Project non fa no no ma Blair Witch la forza secondo me è proprio dal punto di vista dell'invecchiamento cioè Ale l'ha visto in un modo perché ha un'età ha avuto la sua evoluzione su internet io ne ho avuta una diversa e l'ho vista in un altro modo fra dieci anni verrà visto in un altro modo ancora quindi secondo me sarà sempre un film dalle interpretazioni in evoluzione per questo lo reputo uno dei miei film preferiti oltre che uno dei migliori un'altra cosa secondo me interessante considerando che parliamo del 99 è che questo film esce tra virgolette comunque poi ha delle presentazioni nell'ambito di festival cinematografici quindi viene riconosciuto lo statuto sia di film che quindi di opera cinematografica è interessante come Sanchez e Miric erano studenti e quindi sicuramente erano a conoscenza di tutto quello che stava succedendo nel cinema anche europeo cioè io ho sempre trovato nella nascita del font footage non solo un legame stretto con quella che avevo detto l'altra volta cioè la new french extremity e certe nuove modalità di messa in scena in france ma anche il dogma 95 di Fontriar e Winterberg riprese di questo genere le ricordano da vicino nonostante cioè sia il dogma del 95 che il font footage chiedano allo spettatore uno sforzo di sospensione dell'incredulità che è maggiore rispetto ad altri cast cioè in realtà sono entrambi anomali il font footage ti chiede ti chiede cioè neanche te la chiede la feina incondizionata perché in realtà dovrebbe essere di per sé è ultra vero e quindi è assolutamente credibile in dogma 95 soprattutto mi viene in mente idiotico aspetta che hai scattato troppo se ripeti dogma 95 che nel dogma 95 mi viene in mente soprattutto idioti idioterne di Fontrier il livello di realtà è particolare cioè anche in questo caso noi comprese amatoriali vogliamo raccontare una storia non cioè si vuole raccontare una storia però è una storia cioè è una storia di finzione anche in questo caso però teoricamente diciamo che lì c'è pure tutto il discorso polemico rispetto al cinema classico e alle costruzioni più o meno ipocrite del cinema classico quindi annulla il montaggio però io devo dire che le suggestioni trovo siano simili perché occhio se stai scattando troppo non si sente nulla vai adesso utilizzare la ripresa amatoriale che in realtà nel dogma non era diegetica era extra diegetica cioè era una regia però una regia che vuole essere priva di ipocrisie quindi in Idiotterne a un certo punto si vede letteralmente il riflesso di Von Trier su una macchina non si pone neanche il problema cioè va bene così si deve sapere che è finto sono due cose effettivamente opposte ci pensiamo però la fine dei conti le suggestioni sono simili perché entrambi queste messe a nudo della tecnica cinematografica per me permettono di mettere a nudo i loro protagonisti e il processo di spoliazione della psiche dei protagonisti io trovo sia paradossalmente simile in Idiotterne in cui è veramente l'evoluzione della mente della protagonista e in Blade Witch Project in cui pure si si riflette su sta cosa quindi diciamo ancora una volta grazie a Blade Witch Project cioè è soprattutto e quindi grazie a tutto quello che può averlo influenzato il linguaggio cinematografico lo subisce in generale a prescindere dal genere a cui appartiene una subisce una una piccola rivoluzione di cui tuttora sentiamo i risultati non so se voi avete visto qualcosa del dogma o quanto meno il dogma più puro ho visto forse ho visto Festen che è uno dei primi ok ok però i primi di Von Trier non li ho visti vabbè Festen ha pure un pochino quelle suggestioni comunque anche se lì ci sono dei momenti virtuosistici stranissimi che non riesce neanche bene a localizzare però già ad esempio in Dogville comunque c'è questa volontà di voler togliere tutti gli orpelli alla messa in scena rendere tutto visibile che poi lì anche diegeticamente nella storia nella sceneggiatura narrativamente ha un senso il fatto di vedere che non ci siano edifici e muri pareti poi tra l'altro credo che Dancer in the Dark di Von Trier fosse girato in tutto in digitale il che dà una sensazione un sacco alienante rispetto a quello che guardiamo e lui provocatoriamente mette il musical come in quanto forse il genere più più astratto che c'è al cinema e te lo fa con le riprese digitali che sono assolutamente inedite per un musical questo per dire che poi l'impiego del digitale della ripresa di questo genere avrà effetti sia nel cinema d'autore che nel horror e sarà uno dei motori anche più interessanti è proprio l'estetica del digitale è tutto un discorso temporaneo attualissimo perché ora il digitale riesce a simulare anche riprese a sembrare un'altra cosa ma in quell'epoca che c'era il passaggio la sentivi tutta la differenza eh sì sì anche Festen era girato era uno dei primi girati in digital infatti si capisce anche da come è girato che usavano una camerina una handicam digitale uh-huh un'altra 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 è una